...della gara da parte dell'arbitro. Abbiamo ammirato una squadra in grande condizione, in grande salute, non c'è mai stato un dubbio sul risultato. Che partita si è giocata oggi Luca? Questa squadra dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Siamo ai titoli di coda. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!